Sabato 7 aprile si è svolto presso l'auditorium dell'ospedale Buon Consiglio Fatebene Fratelli di Napoli, l'evento organizzato da Fadoi, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, dedicato al fine vita. L'evento si è svolto contemporaneamente in tutta Italia e ha affrontato una tematica molto delicata e di gran lunga attuale. L'iniziativa patrocinata dal Ministero della Salute ha avuto l'obiettivo di aprire dibattiti e riflessioni sulle recenti direttive legislative, sui modelli organizzativi e socioassistenziali idonei sul territorio, la bioetica, le terapie palliative, la terminalità. Il fine vita di un individuo è un momento importantissimo e va sostenuto da un'etica di accompagnamento che permetta al malato di vivere con dignità il tempo che gli resta. Il paziente in fase terminale a causa dell'avanzare del male vede progressivamente deteriorare il suo fisico, un'oggettiva devastazione e inizia ad accusare il disagio, a provare il senso di impotenza che spesso è visibile nello sguardo di chi gli è accanto. Da qui l'etica di fine vita include la considerazione sul come vivere lo spazio che ci separa dalla fine, unendo quindi la prospettiva meramente medica dei trattamenti con quella umanistica. Un recupero più umano e meno medicalizzato, prendersi cura, focalizzarsi sui bisogni del malato e non occuparsi solo dei sintomi o dei suoi organi. La gran parte delle morti prevedibili avvengono negli ospedali e gli interessati non sono per lo più ricoverati in reparti di medicina interna che annoverà pazienti pluripatologici complessi. Fadoi sta cercando di migliorare la formazione degli internisti sulle cure del fine vita e fondamentale appare la condivisione degli obiettivi insieme ad un lavoro d'equip multidisciplinare che definisca i ruoli di cura e di aiuto per evitare l'accanimento terapeutico e restituire dignità al morente. La Fadoi ha dedicato questa giornata, come già l'anno scorso, al problema del fine vita perché è un problema che sociologicamente è sempre più evidente. evidente al punto tale che la legge italiana è stata promulgata proprio allo scopo di affrontare una problematica che si è resa sempre più calzante per l'evoluzione sociale e per l'evoluzione medica della nostra società. Noi ci occupiamo di pazienti che sono sempre più anziani perché la medicina moderna è riuscita a contrastare efficacemente le malattie acute si muore molto meno per infarto, si muore molto meno per ictus cerebrale e il risultato è che questi pazienti aumentano la loro età si allunga la vita media, si allunga la vecchiaia poi si allunga la malattia perché succede che poi subentrano insufficienze d'organo come il rene, come il fegato, lo scompenso cardiaco sempre più refrattario, la broncopatia cronica persino il cancro è stato cronicizzato. È una giornata che riguarda molto da vicino il nostro lavoro di medici internisti perché siamo noi medici internisti ospedalieri che ci troviamo ad assistere i pazienti nelle fasi avanzate di molte malattie molto spesso sono malati oncologici in fase terminale ma molto spesso sono anche malati di altre malattie di cui non c'è tanta consapevolezza che non c'è più nulla da fare per guarire l'ammalato insufficienza cardiaca grave insufficienza respiratoria grave sono malati che non hanno più molta prospettiva di guarigione ma che devono essere assistiti ancora a volte ancora a lungo e questo lo facciamo noi medici internisti quindi lo scopo di questa giornata è di prepararci sempre di più e sempre meglio laddove le istituzioni non ci hanno preparato perché nei corsi di laurea non siamo preparati ad affrontare questa questione sia dal punto di vista della comunicazione con gli ammalati ma anche dal punto di vista del concetto di traiettoria di terapia ne parleremo tra poco quanto tempo ha l'ammalato davanti a sé quella malattia a cosa lo porterà grazie a tutti